I templi sono costruiti di pietra, di vetro, di legno e di metallo, ma sono anche il prodotto della fede e un esempio di sacrificio. I fondi per costruire i templi vengono da tutti i pagatori della decima, che consistono della povera offerta dalla vedova, dei risparmi dei bambini, del contributo degli operai, tutti santificati dalla fede.